Buongiorno a tutti amici e bentornati in compagnia del vostro Emanuele qui su A-Tech. Mi rendo conto che questo video probabilmente ha poco a che fare con quanto di solito porto proprio qui sul canale YouTube, ma conti fatti mi sono reso conto che una guida del genere potrebbe tornare utile a molti di voi che come me hanno comprato magari una macchina del caffè, hanno buttato poi la scatola e il manuale e non sanno come risolvere alcuni piccoli problemi che potrebbero nascere nel quotidiano. Ed è proprio in realtà lo scopo che mi sono dato io come recensore, ovvero quello di portare alla mercè di tutti degli utenti comuni la realtà e non solo brand blasonati e quant'altro. E quindi questo tutorial potrebbe tornare utile a chi di voi come me ha una macchina del caffè Nescafè Dolce Gusto serie Genio S. Vi ritroverete sicuramente nella mia stessa condizione, ovvero quella di avere la spia di decalcificazione accesa. Vedete questa qua, questa spia arancione fastidiosissima. Quindi come fare per rimuoverla? Beh, innanzitutto ci servirà un decalcificante. Io ne ho comprato uno su Amazon a pochi euro. Vedete che qui abbiamo peraltro alcune tacche perché ogni 125 mm sono adatti a un litro d'acqua e quindi avremo anche la nostra bottiglia già con un litro d'acqua. E poi vi servirà un piccolo recipiente per raccogliere tutta l'acqua. In dotazione con la macchina dovreste avere anche questo. Se non ce l'avete non fa niente, questo serve diciamo a convogliare meglio l'acqua e non a farla disperdere. Quindi come prima cosa prepariamo la soluzione andando quindi a inserire 125 mm su un litro d'acqua considerando che il serbatoio della nostra macchina in realtà ne accetta circa 700. Dovrete comunque riempirlo tutto, quindi fino alla tacchetta massima. Preparata la soluzione andiamo a riempire il contenitore. Lo riempiamo completamente fino ad arrivare appunto alla quantità massima. A questo punto inseriamo il nostro contenitore dell'acqua direttamente sulla macchina. Chiudiamo il tutto, ma per far partire l'operazione di decalcificazione dobbiamo ruotare questa livella qua, questa dove andiamo a scegliere il dosaggio arrivando al valore XL e poi continuare fino a che non vedete che questa lucetta qua, quella della decalcificazione, lampeggia. A questo punto facciamo partire la nostra operazione, magari inseriamo anche il beccuccio, chiudiamo il tutto, mettiamo sotto il serbatoio, insomma un contenitore e con il pulsante dell'erogazione facciamo partire il tutto. Lui andrà mano a mano a raccogliere l'acqua, non dovete però in questa fase toccare alcun pulsante quindi anche se sentite che la macchina, tra virgolette, come in questo caso si ferma è tutto, tutto, tutto normale. Dovete procedere fino a quando praticamente il serbatoio si svuoterà completamente e naturalmente quando sentirà il vuoto d'acqua. In quel caso verrà finita la prima fase, ovvero quella di decalcificazione. Ecco, sentite, quando fa questo rumore vuol dire che sta ottenendo il vuoto acqua quindi lui sentirà il vuoto acqua, la nostra macchina sentirà appunto che non c'è più acqua e quindi andrà poi nella fase successiva che è quella del risciacquo. Vedete che lui adesso non eroga più acqua e la nostra macchinetta, vedete qua, che continua a lampeggiare. Eccola qua. Vedete che c'è però questo indicatore che piano a piano scende questo perché vi viene dato il tempo di caricare ulteriormente il serbatoio. Cosa che andrò a fare? Ricaricate di nuovo il serbatoio, lo andate di nuovo a inserire. Vi ricordo che non dovete toccare alcun pulsante quindi lasciate che la macchina faccia il suo con il suo tempo. In pratica questo indicatore piano a piano andrà a scendere fino ad arrivare a, diciamo, all'ultimo livello per poi proseguire nella successiva fase che adesso vi dico. Ecco, quando vi troverete in questa situazione quindi quando, diciamo, il valore dell'erogazione si trova a metà quindi questa lucetta verde e questa lucetta della decalcificazione lampeggeranno in contemporanea quindi luce arancione e luce verde siete pronti per la fase di risciacquo. A questo punto, di nuovo, vi armerete sempre di un serbatoio quindi sempre quello di prima e a questo punto potete pigiare il pulsante di erogazione per il risciacquo. Fase che terminerà sempre quando sentirà il vuoto dell'acqua. Tra un po' terminerà di nuovo il serbatoio e quindi lui riconoscerà nuovamente il vuoto acqua. A quel punto l'operazione dovrebbe terminare. Vediamo se tutto va a buon fine. Perfetto. Avete visto come è terminata la procedura? Vi faccio vedere. La spia di decalcificazione si è spenta e siamo pronti a erogare il caffè. Personalmente però consiglio di fare un ulteriore risciacquo giusto per sicurezza in modo da eliminare qualsiasi impurità o traccia di decalcificante.